Che i rapporti fra sindacati e governo non siano propriamente idilliaci lo si è capito nei giorni scorsi, quando alla Commissione Cultura della Camera si sono svolte le audizioni sul Decreto-Legge 126 in materia di precariato, reclutamento e concorsi straordinari. Tutti i sindacati che hanno preso parte alle audizioni hanno espresso disappunto per le misure contenute nel decreto che non garantirebbero una adeguata soluzione delle criticità esistenti e tutti quanti hanno consegnato alla Commissione corposi dossier. Problemi ancora più seri sono emersi però nelle ore successive quando si è iniziato ad affrontare il tema delle risorse destinate agli aumenti stipendiali. L'annuncio del Ministro Fioramonti faremo aumenti a tre cifre si è rivelato del tutto irrealizzabile fin da subito ma negli ultimi giorni la verità è emersa in modo piuttosto drammatico per certi versi anche inaspettato. Nella giornata di mercoledì è stata Maddalena Gissi a lanciare la prima freccia contro il Ministro. Se facciamo bene i conti, ha detto la segretaria nazionale di Cisle Scuola, si scopre che i soldi messi a bilancio dovranno servire anche per confermare il cosiddetto elemento perequativo e quindi alla fine le risorse realmente disponibili basterebbero appena per un aumento di 65 euro a testa. Talmente pochi, ha aggiunto Gissi, da rendere impraticabile persino l'apertura delle trattative. E sempre nella giornata di mercoledì il segretario confederale della Will, Michele Barbagallo, è intervenuto per rimarcare che i 3 miliardi stanziati per i contratti pubblici sono del tutto insufficienti e che senza una inversione di tendenza il suo sindacato è pronto a proclamare uno sciopero di tutto il pubblico impiego. Mercoledì ancora i sindacati del comparto scuola hanno incontrato il Ministro Fioramonti. I segretari generali hanno ribadito al Ministro le forti preoccupazioni per lo scarto evidente fra le legittime richieste che arrivano da docenti e ATA e le risorse messe in campo con la legge finanziaria. Nel comunicato conclusivo non si parla però né di stato di agitazione né di sciopero. Ogni decisione in merito è infatti rinviata al prossimo mercoledì 20, quando a Roma si terranno i direttivi unitari dei 5 sindacati del comparto. Ma la sensazione è che oramai la rottura fra il Ministro Fioramonti e le organizzazioni sindacali sia solamente questione di tempo. Di questo tema ovviamente continueremo ad occuparci, quindi seguiteci sia su questo canale sia sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it, continuate a leggerci e soprattutto come al solito continuate a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni, noi ne daremo conto. Grazie. 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 Grazie.